Ciao a tutti, sono Simone Savioni, d'orsista nazionale italiana, mi sto preparando per Rio, partirò venerdì e sto abbastanza bene, mi potete vedere dalle 7 gareggiare, è un sogno che sta avverando e mi sto preparando al meglio, non vedo l'ora e mi raccomando seguiteci, un saluto a tutta la Romagna, vi voglio bene.